Abbiamo tanti consiglieri provinciali di ogni colore. Credo che il discorso... Quindi inviterei tutti quanti a andare a vedere la rassegna stampa del 1900. Perché pensavamo che era un progetto che poteva scocciare quella formazione che non c'è mai stata in certi campi perché ci siamo accorti che tanti... Presidente, è bello trovarci qua numerosi dopo qualche anno dall'ultima manifestazione. Sono tanti i temi che dobbiamo affrontare. Ce lo siamo... Ne vorrei toccare alcuni al di là degli interventi già fatti sul tema della fauna. L'anni, ma anche l'impegno che stiamo cercando di portare avanti di trovare funzioni a livello nazionale, ma anche a livello europeo. Sono dei problemi sui quali stiamo cercando insieme di trovare i po' istituzionali che ci stanno intorno, che sono sicuramente la Fondazione Magma, possono essere anche Openfield e altre strutture provinciali, gli istituti di... Nessuna è paura, ma noi dobbiamo affrontare il problema perché altrimenti il problema diventerà irrisolvibile. E pregiudicheremo... È bello trovarci qua numerosi dopo qualche anno dall'ultima manifestazione. Questa settimana scorsa, mi confrontavo, non faccio un nome in questo momento. È bello qui! È bello! Grazie a tutti. Grazie a tutti.